Gesù tra i tanti insegnamenti che ha lasciato ha mostrato la vita e l'agire del Padre rispetto alle altre due persone della Trinità e rispetto all'uomo da lui creato. Come se volesse dire l'uomo non può costruire Dio ma può solo accettarlo. Che significa creare? Che cosa ha voluto Dio dimostrare creando l'universo? San Giovanni Apostolo dice Dio ha tant'amato il mondo quindi tutto è creato e un progetto di amore di salvezza. Non possiamo pensare che Dio creò Adamo perché aveva bisogno di stare in compagnia con qualcuno, ha fatto, perché aveva bisogno quindi dell'uomo ma per avere qualcuno in cui riporre i suoi benefici. Crea l'uomo per arricchirli della sua potenza amorosa. Ecco il vero scopo della nostra creazione. Pensare ad una creazione causata da una solitudine di Dio allora vuol dire che abbiamo cambiato proprio concetto di chi è Dio. Perché allora Dio crea l'universo? Dio non creò Adamo perché aveva bisogno dell'uomo anche pensando alla cattiva riuscita dell'azione di Adamo. Gli sta a cuore unicamente la nostra riuscita e la nostra felicità. Ci ama senza misura fino a donare il figlio e lo spirito e quindi se stesso. Dio crea tutto in vista dell'uomo. Tutta la creazione è organizzata e motivata come quella di un papà che aspetta la nascita del figlio. Quanto è bella questa immagine. Pensare a Dio che freme nel vedere che si sviluppa la creazione e quindi tutto si prepara all'arrivo dell'uomo. Nei pensieri di Dio siamo stati noi prima. Prima che il mondo fosse Dio ha pensato all'uomo. Ha pensato a me e a ciascuno di voi che mi state ascoltando. Dio non creò a sua immagine o meglio creò l'uomo a sua immagine e li benedisse e dicendo crescete, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli e di ogni essere vivente. Peccato però che l'uomo ha dimenticato questo comando di Dio e si serve della creazione per distruggere la creazione. Per qual motivo? Solo per cattiveria. In fondo c'è cattiveria ma per interesse, per il soldo, guadagnare, guadagnare per consumare nei vizi e nei disordini morali. Dio ha preparato tutto l'universo e lo ha dato all'uomo. Gli ha preparato un patrimonio enorme e glielo ha donato. Grazie Signore Dio. Grazie a tutti.